La data visualization sfrutta le capacità innate del nostro cervello di riconoscere forme, colori e trend rispetto invece a quello che è il numero in sé. E quindi sfruttiamo il punto debole del nostro cervello per fargli comprendere meglio le cose. Abbiamo messo a disposizione questo strumento che oggi stanno utilizzando molto i miei venditori, ma proprio tanto. Non pensavo di avere così tanto successo con questo strumento. Abbiamo questo cliente LM Camside, voglio capire per questo cliente cosa vendiamo, voglio capire su questa linea quali sono i prodotti che vengono venduti su tutti. Voglio capire questo articolo quale fa parte e di conseguenza lui si colora significativamente quelli che sono i filtri. Grazie 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 Grazie